buongiorno bambini ecco la maestra anna che questa mattina vi saluta con un grande bacio allora volevo chiedervi avete dormito bene questa notte si avete sognato avete fatto qualche bel sogno ma voi sognate qualche volta sì sapete che sogno altro che e a tal proposito voglio raccontarvi una storiella una storiella carina di gianni rodari vi ricordate che ne avevamo già parlato avevamo anche studiato una poesia e gianni rodari è uno scrittore un pedagogista che è vissuto cento anni fa pensate nel centenario di questo grande scrittore che ha scritto tante cose belle per i bambini ma che piacciono anche agli adulti allora io vi voglio raccontare il lomino dei sogni vediamo un po se vi piace l'omino dei sogni è un buffo di petto mentre io dormo c'è un omino piccolo piccolo che viene sul mio cuscino e mi dice ma guarda stai volando attaccato a un ombrello io gli credo subito e passo in mezzo alle nuvole tiepide bagnate vedo in basso i miei piedi laghi e fiumi salto da una collina all'altra poi lomino mi dice mettiti in salvo ci sono i briganti e io davvero vedo i briganti sono due con la maschera sugli occhi mi vogliono sparare con il trombone aiuto io vorrei fuggire sono tanto spaventato ma non riesco a muovere un dito lomino si diverte a farmi credere quello che vuole guarda che ti cresce una rosa sulla mano mi dice e io vedo davvero una rosa che mi spunto mi spunta fra l'indice e il medio ogni volta che vado a letto mi dico questa volta non gli voglio credere poi appena chiudo gli occhi lomino mi dice guarda una balena e io subito credulone vedo una balena che nuota nel bicchiere d'acqua che ho sul comodino ma tutto questo succede anche a voi allora vedete com'è bello entrare nel mondo dei sogni i sogni sono meravigliosi sia che siano quelli che facciamo durante la notte e a volte sono anche un po sogni che magari ci spaventano di per lì però poi al mattino quando ci svegliamo capiamo che poi non è successo niente di brutto ma torniamo poi alla realtà poi ci sono quei sogni carini che ci rendono allegri e in fondo cosa sono i sogni e diciamo che fanno parte della fantasia e con la fantasia possiamo esplorare mondi bellissimi e poi ritornare alla realtà così come abbiamo sognato in un attimo possiamo ritornare alla realtà e questa è la cosa bella della fantasia la fantasia ci porta in mondi straordinari e allora bisogna sempre sognare sognare cose belle naturalmente perché voi siete bambini e sognare anche ad occhi aperti e con questa bella cosa io vi saluto vi mando un bacione grande e a risentirci presto buona giornata a tutti ciao vi voglio bene ricordatevelo sempre